Alla presenza del sindaco Alberto Biancheri, dell'assessore Massimo Donzella e dell'imprenditore Gianni Silvano che ha realizzato i lavori, è stata inaugurata una nuova area giochi della scuola Rodari nel quartiere del Borgo di Sanremo. La realizzazione è stata possibile grazie alla donazione della famiglia Abate, nota famiglia di imprenditori della città dei fiori. Ci spiega la motivazione di questa donazione proprio Michele Abate. Quando abbiamo celebrato i cento anni di attività nel purtroppo triste 2020 abbiamo pensato con mia moglie e con mia figlia di fare qualcosa per la nostra città adottiva. Noi non siamo di Sanremo, però Sanremo ci ha adottato, ci ha ospitato, ci ha dato l'opportunità di crescere, ci ha dato tante cose. Quindi ci è sembrato giusto fare qualcosa per questa città. Quando poi il sindaco e la giunta ci hanno suggerito questo tipo di lavoro la cosa ci ha fatto ancora più piacere perché come per noi fare qualcosa per la scuola e per i bambini che rappresentano il nostro futuro è una cosa che ci ha riempito il cuore di grande gioia. E quindi siamo molto contenti della realizzazione che è stata fatta magistralmente dalla ditta Silvano e speriamo che possa durare per tanti anni e che possa far divertire tante generazioni di bambini. L'assessore Massimo Donzella ci racconta un aneddoto in relazione a questa bella storia della donazione della famiglia Abate. Questa è una bella storia veramente perché abbiamo il privato e il pubblico, cioè una azienda che ha rappresentato l'eccellenza, la qualità e l'attrazione nella città di Sanremo, la famiglia Abate, che si mette a disposizione della collettività del comune e dei bambini in questo caso per fare una donazione, per renderli felici. Ha voluto fare questo e questa donazione, come abbiamo potuto sentire dai bambini questa mattina, gli dà la possibilità di gioire, di stare all'aperto in un momento soprattutto in cui era difficile stare all'interno. È stata rappresentata una frase dalla coautrice Alessandra Pavone che ha fatto un riferimento alla famiglia Abate come testimone di questa favola, di questa bella favola e testimone del tempo dedicata ai giovani, ai bambini.